Oh mio! Eh oh! L'hai fatta in quattro pezzi! Allora devi girare in centrale se non ti ricordi! Quanto sono di cominci che ho fatto niente? Sono 8 a 6 Rifanno 5 di qua e 5 di là per equilibrare Lascia! Eeeh! 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 Aiii! Non basterò! Traglierò! Stavo ahoggiando più gli occhi amici che poi ciò che... Eeeh! Ha ricomperato un caldo a quello li! Ha ricomperato un saldo! . Dagli mandi dobi! Hai portato un token! a capo